EICMA 2014, Malossi presenta i nuovi componenti per lo Yamaha T-Max. I prodotti saranno impiegati nella T-Max Cup della prossima stagione, che si correrà nei più prestigiosi autodromi italiani e verrà trasmessa in diretta streaming. Scopri trofei Malossi 2015, ti aspettiamo ad EICMA Fiera di Milano, Padiglione 10, Stand C71, dal 6 al 9 novembre.